Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Partiamo con l'aggiornamento dei dati sui casi da coronavirus. I virus salgono a 69 decessi nelle Marche, 12 in più rispetto alla giornata di ieri. In lieve calo il numero dei contagi. Il servizio di Francesco Salvaglio. Un lieve miglioramento dei casi positivi rispetto al picco di ieri, anche se il gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie delle Marche ha comunicato che salgono a 1.242 i positivi, 120 in più di ieri. Su un totale di 3.225 testati. I ricoverati in terapia intensiva in regione sono 110, di cui 24 nei presidi ospedalieri di Marche Nord, 22 al Torrette di Ancone e 4 a Urbino. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia non intensiva sono 528, mentre i contatti in isolamento domiciliare sono 3.716. Di questi, in provincia di Pesaro Urbino, risultano asintomatici 1.216 persone. E sintomatici 250. I decessi di oggi sono 12, con un totale di 69 nella regione. Età media 80 anni. Tutti avevano patologie pregresse. Nello specifico, 6 erano domiciliati a Pesaro, una donna 90enne di Fermo, un 88enne di Cingoli nel Maceratese, una 79enne di Tavuglia, un 82enne di Fano, un 80enne di Gabicce Mare e una 93enne di Monte Ciccardo. Adesso parliamo invece del farmaco della speranza, quello che viene utilizzato per curare l'artrite. A Marche Nord al momento sono 11 i pazienti in terapia. Ma quali sono le speranze per i malati? Ha acceso in molti la fiammella della speranza, sia tra i pazienti ricoverati e i loro familiari, ma anche tra il personale medico, che ora dispone di un'arma in più con cui combattere il coronavirus. È il farmaco utilizzato per la cura dell'artrite reumatoide, principio attivo dal nome impronunciabile, Tocilizumab, ma ora sulla bocca di tutti. In questi giorni sta dimostrando di essere efficace nel trattamento della polmonite interstiziale causata dal Covid-19 che costringe i pazienti ad essere messi in terapia intensiva e per i più gravi invece ad essere intubati nelle rianimazioni. Dopo i primi casi trattati a Napoli dal professor Paolo Ascierto, direttore dell'Unità di Oncologia Melanoma Immunoterapia dell'Istituto Tumori Pascali di Napoli, anche altri pazienti curati in Italia stanno ricevendo questa terapia. Tra gli ospedali che stanno utilizzando il farmaco c'è anche quello di Fano e le evidenze vanno tutte nella stessa direzione. Nella maggior parte di casi c'è un miglioramento rapido. Marche Nord fa sapere che sono 11 al momento i pazienti che hanno ricevuto il trattamento. I numeri sono quelli che ha dato l'azienda e sono ancora pochi insomma e c'è ancora da sperimentare però una speranza discreta c'è. È stata praticamente una scoperta una scoperta, una intuizione dei cinesi poi ripresa dal professor Ascierto di Napoli e lavoro pubblicato con 21 casi in Cina dove si è visto che praticamente questi pazienti miglioravano riducendo la risposta infiammatoria dell'organismo al virus. Il direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza di Marche Nord, Michele Tempesta ci dice che nei pazienti già molto gravi e già in rianimazione si registra un lieve miglioramento mentre nei casi meno gravi spiega il responsabile del pronto soccorso del Santa Croce di Fano Giancarlo Titolo il 70-80% di questi mostra miglioramenti evidenti già nelle prime 24 ore. Questo target lo dobbiamo acquisire nel senso che adesso ci sono due linee di pensiero in cui alcuni vogliono farlo a delle persone che sono già intubate che hanno delle problematiche importanti altri invece lo vogliono fare in maniera precoce. Alla luce di queste evidenze cliniche l'azienda titolare del farmaco La Roche ha dato la propria disponibilità ad AIFA nazionale per avviare uno studio clinico sull'efficacia e sicurezza del Tocili-Zumab anche in questi pazienti. Sono positivo al Covid-19 ma andrà tutto bene. Comincia così con un post pubblicato sulla pagina Facebook il messaggio del sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi positivo al coronavirus. Tutto è cominciato con una leggera febbre sabato 7 marzo che lo ha messo in allarme e così racconta il primo cittadino ho preso la decisione di mettermi in isolamento a casa poi giovedì il tampone da parte di Asur e venerdì 13 il risultato da domenica 8 marzo lavoro qui da casa poi lancia un messaggio a tutte le persone che sono state in contatto con lui nei giorni di incubazione del virus sono state prima contattate da me riferisce Feduzzi e poi dall'ufficio igiene e prevenzione e sono già in isolamento anche se non presentano nessuna sintomatologia e rilancia non vi allarmate se non siete stati contattati dagli uffici Asur significa che non state correndo nessun rischio di contagio andrà tutto bene conclude il sindaco di Fermignano e ne usciremo più forti di prima insieme ma tra le tante emergenze sanitarie di questo periodo c'è anche quella legata alla donazione del sangue per paura del contagio molti non vanno più a donare dunque sono crollati gli accessi ai centri trasfusionali in questo periodo a causa del coronavirus esiste veramente un'emergenza sangue le notizie diffuse dai media come televisioni e giornali sono corrette ma molti donatori regolari hanno però smesso di partecipare a causa della paura dell'epidemia e i centri trasfusionali sono in allarme ma come si legge sulla piattaforma web Donatori H24 il sito ufficiale di riferimento del mondo della donazione donare si può e si deve anche in questo periodo di emergenza sanitaria all'interno e all'esterno dei centri trasfusionali per tutelare la salute dei donatori sono in vigore le norme restrittive le norme tra cui quella di far mantenere la distanza di oltre un metro tra le persone e quelle di misurare la temperatura dei possibili donatori prima dell'ingresso sono rispettate anche dagli operatori sanitari al lavoro i quali ricevono costanti aggiornamenti sul comportamento da tenere nel centro nazionale sano in più in questo periodo le misure di pulizia e sanificazione all'interno delle strutture ospedaliere trasfusionali sono state aumentate per garantire un ambiente totalmente sicuro a chi sceglie di partecipare alla raccolta una circolare del centro nazionale sangue ha confermato che si dona su tutto il territorio nazionale in tutte le auree anche in cui l'epidemia si è diffusa il sangue serve sono state create condizioni per poter donare i donne in tutta sicurezza tant'è che qui il centro trasfunzionale di Fano ha cambiato il suo ingresso non è più dall'interno comunque del Santa Croce ma si passa dal parcheggio attivo al pronto soccorso per cui non si viene in contatto con ambienti che sono comunque in emergenza per coronavirus ma si fa comunque un grande servizio alla comunità per cui invito tutti i fanesi tutte le fanesi a donare e a farlo in tutta sicurezza al centro trasfusionali di Fano donare sangue è totalmente sicuro le trasfusioni vengono effettuate con materiale sterilizzato usa e getta in ambiente protetto inoltre le sacche vengono messe in quarantena e se il donatore nei 14 giorni successivi alla donazione mostrasse sintomi le sue sacche non verrebbero immesse nel circuito è bene sapere anche se il dubbio venisse nei donatori che sono autorizzati a uscire di casa per arrecarsi nei centri trasfusionali e nelle sedi di raccolta delle associazioni la donazione di sangue e plasma è inclusa tra le situazioni di necessità previste appunto nel decreto del 9 marzo del 2020 il parcheggio all'ex caserma Paolini da domani verrà chiuso al pubblico lo rende noto l'amministrazione fanese in questo periodo di emergenza sottolinea l'assessore con delega della protezione civile Cristian Fanese il personale della protezione civile è impegnato con tutti i suoi volontari nel servizio di spesa a domicilio e assistenza pertanto abbiamo ritenuto sia per una questione sanitaria sia per una questione di buon senso di chiudere il parcheggio invitiamo pertanto tutti coloro che hanno l'automobile all'interno dell'area di rimuoverla al più presto infine è bene continuare a rispettare le direttive a concluso Fanesi le direttive del governo e di uscire di casa il meno possibile da nord a sud fioccano le denunce nei confronti di chi viene sorpreso fuori casa senza giusta motivazione nella provincia di Pesorurbino soltanto ieri sono stati effettuati più di 500 controlli Polizia e forze dell'ordine continuano i servizi mirati al rispetto delle norme del decreto Conte meglio conosciuto come io resto a casa dalla prefettura di Pesorurbino fanno sapere che sono stati 535 i controlli effettuati solo nella giornata di ieri 15 marzo per la verifica sull'osservanza del divieto di spostamento previsto dal decreto del presidente del consiglio dei ministri dell'11 marzo del 2020 le violazioni contestate sono state 23 con conseguente segnalazione dei trasgressori alle competenti autorità giudiziarie sempre nella giornata di ieri sono stati compiuti oltre 330 controlli anche nelle attività commerciali autorizzati all'apertura ma che devono garantire anche le norme di sicurezza controlli che non hanno dato alcun esito a contestazioni o violazioni le forze dell'ordine si raccomandano alla puntuale osservanza delle norme di contenimento previste dal decreto che invita a limitare le uscite di casa ai soli casi previsti che ricordiamo essere le comprovate esigenze lavorative motivi di salute e di necessità queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione del famoso modulo fornito dalle forze di polizia o anche scaricato da internet attenzione però perché in seguito a queste autodichiarazioni verranno poi fatti dei controlli sulla loro veridicità pertanto è bene tenere da conto in caso si venga fermati i giustificativi lo scontrino della spesa o della farmacia o il certificato del medico o altro comunque che attesti quanto dichiarato agli agenti e nell'autodichiarazione una falsa dichiarazione più volte viene ricordato che costituisce un reato e purtroppo il coronavirus ha varcato anche il portone della struttura d'accoglienza per anziani Famiglia Nova di Fano al momento sono tre gli anziani deceduti 19 quelli positivi al covid 19 sono tutti residenti nella struttura la dirigenza di Famiglia Nova fa sapere che è massima la collaborazione con l'amministrazione comunale che da subito si è attivata per aprire tutti i canali per gestire al meglio questa emergenza la situazione all'interno della casa è al momento sotto controllo ed è gestita dal personale specializzato con professionalità e competenze inoltre su indicazioni dell'Asur le persone risultate positive al test che mostrano sintomatologia sono state isolate dal resto dei residenti ed il personale che le assiste è dedicato esclusivamente a loro sono state effettuate anche altre cinque assunzioni per affronteggiare al meglio l'emergenza ed i familiari degli ospiti sono tenuti costantemente aggiornati notte e giorno sullo stato di salute dei loro cari e sull'evoluzione del contagio dalle 8 di domani fino alle 18 di mercoledì prossimo il tratto di strada provinciale 5 mondaviese nei pressi del cimitero di Sant'Ippolito resterà chiusa al traffico per consentire la rimozione del taglio del grosso pino che si è abbattuto il mese scorso sui padiglioni del cimitero cittadino Chiudiamo qui con questo avviso il nostro telegiornale prima di salutarvi vi ricordo che Fano TV ha deciso di adottare a partire da oggi il protocollo del governo nazionale atto a garantire la sicurezza dei lavoratori durante questa fase di emergenza sanitaria pertanto sia il telegiornale sia la rassegna stampa del mattino sono stati realizzati riducendo al minimo la presenza del personale in studio favorendo il lavoro da casa attraverso la rete internet e con questo ci salutiamo qui grazie per averci seguito l'appuntamento è per domani mattina alle 7 e 30 con la rassegna stampa arrivederci